Noi dell'Italia dei Valori assistiamo con rispetto a questo tentativo del Presidente della Camera di riportare la politica al servizio dei cittadini e non per interessi personali e per utilizzare il Parlamento solo per legge ad personam. Ci auguriamo che sono oggi, domani, goccia dopo goccia, questa pietra del regime possa essere scalfita. Al Governo in sé non crea problemi perché fino a quando ha la maggioranza non c'è una maggioranza parlamentare che dibatte, ma c'è una maggioranza ubbidiente a un satrapo che pensa soltanto a farsi legge per uso e consumo proprio. Il tentativo del Presidente della Camera nel suo ruolo istituzionale, come vedete io non lo chiamo onorevole Fino, lo chiamo Presidente della Camera, nel suo ruolo istituzionale di ridare un prestigio alla Camera, un tentativo che dobbiamo aiutare a portare avanti, a prescindere che sia di destra o di sinistra. E tutti insieme, noi leader di partito, dobbiamo aiutare a questa riflessione profonda che deve portare i partiti a spersonalizzarsi un po' di più. E' questo l'impegno che noi dell'Italia Valori abbiamo preso nel nostro congresso, è questa la lezione che ci viene data da ciò che è accaduto in queste ore e ci auguriamo che almeno nel Paese ci sia un ripensamento verso questo liderismo che non fa bene alla democrazia e che non fa bene all'interesse del Paese. Di Pietro, la maggioranza comunque del PDL non sembra molto contenta di questa corrente finiana, come legge questo fatto? La maggioranza di coloro che hanno la poltrona assicurata. Il Paese vuole un sistema di partiti che pensa a fare provvedimenti che servono al Paese, dall'occupazione al lavoro, alle difese dell'ambiente, alla sicurezza e non che pensa a farsi legge a uso e consumo. Immaginate l'ultima legge sull'intercettazione, dove c'è una norma, la norma antidaddario, diventa reato anche registrarsi se stessa. Buttatevi a tutti i registratori, mi raccomando, perché d'ora in poi rischiate fino a 4 anni. Sono all'opposizione da sempre e da sempre sto dicendo che prima ci liberiamo del problema Berlusconi, inteso come sistema di governo piduista e fascista, meglio è. Il problema è che ci vogliono i numeri in Parlamento. Con questa legge elettorale, molti parlamentari, come avete visto anche dai traditori del principio della destra finiana, per la poltrona vendono anche l'anima. Io credo che questa iniziativa del Presidente della Camera sia importante e debba riguardare tutti i partiti. Noi dell'Italia dei Valori l'abbiamo già fatto con il congresso di febbraio, perché dopo la disfatta della Prima Repubblica, grazie all'inchiesta Mani Pulite, sono nati partiti personali, troppo personali. Di Pietro ne sta l'Italia dei Valori, come Berlusconi sta a Forza Italia, come Bossi sta alla Lega, come Casini sta all'Udc, eccetera. È tempo di ritornare alla politica di servizio. Questo è l'impegno e la lezione che noi dell'Italia dei Valori vogliamo prendere e in questo momento ci impegniamo affinché in Parlamento, nel Paese, la politica diventi meno personale e più partecipata. Grazie a tutti.